Buongiorno, pare che nel Cinquecento fossero comuni delle gare tra i matematici. I matematici si sfidavano nel risolvere problemi difficili. Pare che questa cosa, se da un lato costituiva un impulso verso lo sviluppo della matematica, dall'altro faceva sì che molti matematici tenevano per sé gelosamente i risultati ottenuti nella soluzione di difficili problemi. Per quale motivo? Ebbene perché poi sottoponevano quegli stessi problemi agli avversari, così vincendo la gara e acquisendo fama, notorietà e mettendosi in mostra con i potenti nobili. E pare che questo fatto abbia fatto sì che in molti casi oggi non si sapesse chi fosse stato il reale scopritore, per esempio, di soluzioni di difficili equazioni, come la formula dell'equazione di terzo grado. Ma che cosa sono le equazioni? Cerchiamo di capirlo con un semplice esempio. Supponiamo di voler arredare casa e di voler coprire un'area di 4 metri quadri comprando un tappeto e di chiederci quanto deve essere lungo il lato di questo tappeto. Vabbè, la soluzione, lo sapete, è 2. Ma identificando questa soluzione che cosa abbiamo fatto? Ebbene abbiamo implicitamente risolto una equazione di secondo grado. Cioè ci siamo chiesti qual è quel numero che, moltiplicato per se stesso, fornisce il risultato 4. E la soluzione di questa equazione è 2. Attenzione però! Ricordiamoci, come abbiamo visto nel precedente video, che oltre ai numeri positivi, ebbene possiamo considerare anche i numeri negativi. E ricordiamoci che se è vero che la moltiplicazione di due numeri positivi fornisce un risultato positivo, è altrettanto vero che la moltiplicazione di due numeri negativi fornisce un risultato positivo. E quindi, se è vero che 2 per 2 fa 4, è altrettanto vero che meno 2 per meno 2 fornisce il risultato 4. Dunque, l'equazione x alla seconda uguale 4 ha due soluzioni. La soluzione 2 e la soluzione meno 2. Naturalmente, quando dobbiamo arredare casa, scartiamo la soluzione meno 2. Non ne teniamo conto perché non ha senso considerare un tappeto lungo meno 2. Insomma, in molti problemi pratici i numeri negativi non entrano in gioco. Insomma, le soluzioni negative delle equazioni vengono scartate. Ecco perché Cartesio le definì soluzioni false. Ma oltre alle soluzioni false, alle soluzioni negative, ebbene esistono anche altri tipi di soluzioni, o meglio, altri tipi di situazioni nelle equazioni che spuntavano ripetutamente nell'affrontare equazioni di vario tipo. E per capire di che cosa stiamo parlando, consideriamo di nuovo un semplice esempio. Supponiamo di voler cercare quel numero che moltiplicato per se stesso fornisce il risultato meno 1, un risultato negativo. Ebbene, ciò non è possibile, perché ricordiamoci che, come abbiamo osservato prima, quando moltiplichiamo un numero per se stesso, se esso è positivo fornisce un risultato positivo, se esso è negativo fornisce un risultato altrettanto positivo. Dunque, nessun numero, né positivo né negativo, potrà mai fornire un risultato negativo quando moltiplicato per se stesso. E allora che cosa hanno fatto i matematici che si divertono a creare nuovi numeri? Ebbene, hanno concepito un numero che hanno chiamato i che è definito proprio così. I è quel numero che moltiplicato per se stesso restituisce il risultato meno 1. Insomma, una sorta di figura impossibile che riusciamo a concepire ma che non corrisponde a nulla nell'ambito della realtà. insomma, quella che Bombelli definì quantità silvestre. Oppure con aura misticheggiante Leibniz definirà mostri di un mondo ideale quasi anfibi tra l'ente e il non-ente. Eulero invece darà una definizione che fornirà poi il nome a questi strani numeri numeri che esistono solo nella nostra immaginazione ed ecco perché sono chiamati numeri. immaginari la I sta per immaginari. Insomma esistono i numeri reali ed esistono i numeri immaginari. Ricordiamoci però che i numeri reali a dispetto del nome ebbè anche loro così reali non sono. Ricordiamoci che ai numeri reali appartengono numeri che hanno infinite cifre decimali e ricordiamoci tutti i paradossi e le contraddizioni che ciò comporta. Ne abbiamo parlato in un altro video in cui abbiamo introdotto anche i numeri iper reali. E infatti i numeri immaginari o reali che siano sono una creazione del genio umano. I numeri immaginari reali hanno delle affinità. Per esempio i numeri immaginari sono non solo il numero I ma anche perché no tre volte I quattro volte I dieci volte I meno I meno cento I insomma i numeri immaginari al pari dei numeri reali possono essere tracciati lungo una retta. Insomma abbiamo l'asse dei numeri immaginari e la retta dei numeri reali che però sembrano avere punti in comune non intersecarsi non parlarsi e allora che cosa è stato fatto? È stato concepito l'insieme dei numeri complessi. Sono stati affiancati i numeri reali e i numeri immaginari ottenendo queste strane creature che sembrano sia struse ma ricordiamoci l'etimologia della parola complesso. Complesso sta a significare tessuto assieme e allora andiamo a vedere quali trame riescono a tessere numeri complessi e per farlo che cosa introduciamo? Guardate bene abbiamo tracciato la retta dei numeri reali e andiamo a tracciare anche quella dei numeri immaginari però con un piccolo sotterfugio la disegniamo così ortogonalmente rispetto a quella dei numeri reali. Abbiamo insomma una sorta di coppia di assi cartesiani che ci permettono di localizzare di identificare ogni punto del piano come? Bene semplicemente introducendo un generico numero complesso per esempio 2 più i andando a identificare la sua parte reale sull'asse dei reali la sua parte immaginare sull'asse degli immaginari e così identificando come battaglia navale quell'unico punto del piano che corrisponde a quel numero complesso naturalmente questo lo possiamo fare per qualsiasi numero complesso proviamo a concepire numero complesso dunque costituito da una parte reale e da una parte immaginaria e attraverso questa rappresentazione geometrica potremmo vedere i numeri reali come casi specifici di numeri complessi sono dei numeri complessi che hanno parte immaginaria nulla e viceversa i numeri immaginari saranno numeri complessi che hanno parte reale nulla una visione unificata di numeri reali immaginari all'interno dell'insieme dei numeri complessi che ha una potente rappresentazione geometrica potente rappresentazione geometrica unificante che tuttavia richiede di sacrificare qualcosa cosa stiamo sacrificando stiamo sacrificando la relazione di ordine se tra i numeri reali abbiamo una relazione di ordine è possibile dire che un numero è più grande di un altro ciò non è vero per i punti del piano non possiamo dire che un numero complesso è più grande di un altro insomma sono dei numeri non associate all'idea di grandezza ebbè l'abbiamo detto prima sono dei numeri ben strani che tuttavia come mostreremo in questo nel prossimo video hanno dei interessanti risvolti anche e soprattutto in ambito applicativo nella fisica ma andiamo avanti dobbiamo capire qualcosa in più dei numeri complessi e per farlo facciamo una semplice operazione un'operazione di moltiplicazione del numero 3 per il numero i otteniamo cosa? 3 volte i 3 i va bene il numero 3 si trova sull'asse dei numeri reali il risultato di questa operazione si trova viceversa sull'asse dei numeri immaginari insomma 3 moltiplicato per i restituisce 3 i attraverso cosa? attraverso un'operazione di rotazione la rotazione di 90 gradi naturalmente moltiplicare per i costituisce un'operazione di 90 gradi di rotazione di 90 gradi comunque andiamo a realizzarla anche partendo dal valore 3 3 i moltiplicato per i è uguale a 3 i alla seconda i alla seconda è uguale a meno 1 per definizione di numero complesso quindi se moltiplico 3 i per i ottengo meno 3 parto da 3 i arrivo a meno 3 di nuovo attraverso un'operazione di rotazione di 90 gradi e quindi anche se parto da meno 3 moltiplicando per i ottengo meno 3 i e viceversa da meno 3 i moltiplicando per i ottengo più 3 insomma moltiplicare per i equivale a realizzare una rotazione in senso anti-orario di 90 gradi e chi ha seguito scusate il video precedente sicuramente noterà una profonda analogia con quanto vi osservato la moltiplicazione per il numero meno 1 vi ricordate corrispondeva ad una rotazione di 180 gradi ebbene del resto moltiplicare per meno 1 equivale a moltiplicare per i per i cioè a realizzare due rotazioni di 90 gradi la perfetta coerenza con quanto ottenuto per i numeri negativi ogni volta che si realizza una estensione dell'insieme dei numeri bisogna mantenere la coerenza con i numeri precedenti naturalmente va bene torniamo alle nostre amiche equazioni abbiamo visto prima come un'equazione del tipo x alla seconda uguale 1 ha due risultati uno positivo ed uno negativo x alla seconda uguale meno 1 va beh un risultato l'abbiamo già considerato ed è il risultato i numero immaginario introdotto proprio per fornire una soluzione a questo tipo di equazione però attenzione quando andiamo a considerare i numeri negativi ci accorgiamo che anche meno i costituisce una soluzione di questa equazione perché per i motivi che abbiamo detto prima meno i per se stesso ha come risultato più i alla seconda ma più i alla seconda altri non è che meno 1 dunque anche questa equazione ha due soluzioni e non è un caso perché introducendo numeri complessi le equazioni hanno tante soluzioni quanto è il grado dell'equazione cioè quanto è il valore dell'esponente dell'incognita della x della riabile di cui cerchiamo di determinare il valore più elevato tante soluzioni quanto è il grado dell'equazione insomma i numeri complessi hanno di fatto uniformato le diverse equazioni hanno semplificato non complicato semplificato la soluzione dell'equazione del resto sono nate proprio per quello è comodo sapere sin dall'inizio quante soluzioni ha un'equazione tante quante è il grado dell'equazione va bene adesso proseguiamo con la rappresentazione geometrica dei numeri complessi prima introdotta osservando come le due soluzioni dell'equazione x alla seconda uguale a meno 1 si dispongono in maniera geometricamente simmetrica più i e meno i stanno agli estremi del diametro di un diametro della circonferenza unitaria e ciò è altrettanto vero quando andiamo a considerare le due soluzioni dell'equazione x alla seconda uguale ad 1 si trovano nell'altro diametro quello orizzontale della circonferenza unitaria esaminiamole un po' più in profondità queste due soluzioni una soluzione di questa equazione x alla seconda uguale a 1 è la soluzione 1 e beh facile perché 1 per 1 è uguale a 1 cioè 1 rimane fermo o se volete 1 torna su se stesso dopo una rotazione di 360 gradi ebbene questo fa anche l'altra soluzione meno 1 torna su se stesso dopo una rotazione di 360 gradi ecco dunque identificato una strategia geometrica per trovare le radici del numero 1 cioè quei numeri che moltiplicati per se stesso un certo numero di volte restituiscono 1 e allora se per esempio consideriamo un'equazione più complicata x alla terza uguale a 1 cioè quali sono quei numeri che moltiplicati per se stessi tre volte forniscono il risultato 1 sappiamo che di tali numeri beh ce ne devono essere tre no? perché abbiamo detto prima che ogni equazione ha tanti risultati quanto è il grado dell'equazione tra le soluzioni ma quali saranno queste soluzioni? ebbene esiste un metodo geometrico molto semplice per identificarle sicuramente abbiamo la soluzione 1 perché 1 per 1 per 1 è uguale ad 1 rotazione di 360 gradi restituisce il numero 1 le altre due ebbene basta identificare quei punti lungo la circonferenza unitaria tali che l'angolo di 360 gradi l'angolo giro è diviso in tre volte perché devono essere quei valori che in seguito ad una terna di rotazione realizzano l'angolo giro cioè ritornano su se stessi e allora eccole le tre soluzioni complesse dell'equazione x al cubo uguale ad 1 e come sappiamo risolvere l'equazione x al cubo uguale ad 1 sappiamo risolvere anche x alla quinta x alla settima x alla ottava x alla decima per esempio x alla quinta uguale ad 1 come si risolve e di nuovo sicuramente abbiamo il numero 1 e poi e poi i vertici di un pentagono 5 soluzioni tutto molto io penso elegante molto armonico ritroviamo i poligoni regolari platonici nelle soluzioni di queste equazioni e qui ci fermiamo per oggi contemplando la bellezza delle trame geometriche tessute dai numeri complessi nel prossimo video entreremo ancora più in profondità del significato dell'utilità dei numeri complessi adesso ci rimettiamo ad osservare come ogni numero è speciale quando si arriva ad apprezzarli individualmente quasi fossero persone sono come vecchi amici ognuno ha la sua storia da raccontare e spesso questa storia porta a incontrare un sacco di altri numeri grazie e arrivederci grazie a tutti